cari amici il mio caro Gianni mi ha dato una grandissima notizia per quanto riguarda la All Elite Wrestling e bene ci sarà il ritorno di una top star settimana prossima a Dynamite parliamo niente poco di meno di PAC che ovviamente vedremo se in un certo senso verrà integrato nel pay per view full gear o meno magari è un po' difficile però chissà anche il suo ritorno vedere cosa farà e quali obiettivi avrà PAC quindi insomma bellissima notizia ciao a tutti alla prossima ciao